Tu sei la più richiesta di questo Sanremo, lo sai? Sono felice, sono felice. Assolutamente. È stato bello venire qua, anche se c'è questa atmosfera, no? Però dentro all'Aristo l'atmosfera è uguale agli altri anni. Ah, non c'è dubbio. Perché ci sono tante persone che girano di qua, girano di là, devi stare attento a non inciampare contro qualcuno. È tutto un movimento continuo. E devo dirti la verità che quando tu entri sul palco non la senti questa mancanza del pubblico. Perché in platea ci sono tutti i musicisti e poi le poltrone sono messe in un modo con la luce che sembra che siano occupate. Quindi il registro è molto bravo. Certo, immagino. Tu sai, devi pensare che dietro la luce rossa della telecamera ci sono tante persone che ci seguono. E insomma... Eh, lo so, tu hai una grande esperienza. E li portiamo un po' di tà. Da questo punto di vista è una grande esperienza. Credo che quest'anno particolarmente abbiate anche maggiore empatia con l'orchestra, visto che comunque vi trovate tutti lì insieme. Sì, sì, sì. Devo dire che ci hanno giovolato molto anche nelle prove. Perché abbiamo provato prima Roma e poi due giorni qui a Sanremo e anche quando siamo venuti ci hanno fatto provare chi voleva due volte, tre volte la canzone. Lasciavano molto spazio, ecco. Eh, che meraviglia. No, ma quando si lavora così è molto bello. Guarda, io ti racconto un po' perché appunto io e te abbiamo un sacco di amicizie in comune e che credo che ci legano a questa intervista. Ti spiego anche perché. Perché io intanto, vabbè, io scrivo per questo magazine che si chiama faremusic.it che praticamente da sette anni a questa parte per la quale appunto ogni anno mi trovo a Sanremo. Quest'anno è una cosa un po' particolare, ovviamente, per via del Covid. Ma il nostro patrone, diciamo, è Alberto Salerno. Ah, beh. Cioè, io ho fatto tante canzoni di Carosone. Infatti. Cioè, infatti, scritte da suo papà. Esatto, da Nisa. Sì, ieri gli hanno fatto anche un omaggio, tra l'altro. Sì, sì. E guarda, sono canzoni che vanno soprattutto in tutto il mondo ma c'è quell'ironia nei testi, quella vera ironia genuina e intelligente dei napoletani. È, stupenda, stupenda. Infatti, nel senso che poi, appunto, ripeto, poi negli anni lui, diciamo, ha ideato questo progetto e adesso poi viene mosso dalla nostra caporedatrice, Mela Giannini, e dall'ufficio stampa Jessica Cavestro. Però diciamo che il nostro patron, come fosse una sorta di padre artistico, è comunque Alberto Salerno. Sì, sì. Ecco. E poi, io da qua mi collegavo anche ad altre amicizie amicizie che ci collegano. La prima è Paola Pellai, per la quale tu hai scritto la prefazione del suo libro. Sì, sì. È vero. Che stamattina, appunto, scrive, e da qui mi ricollego a diversi complimenti che voglio farti, mi scriveva proprio che tu, essendo l'icona di questo Sanremo qua, a parte che hanno fatto diverse copertine, anche ironiche, non so se hai visto la copertina di TV Stories e Canzoni, con tutti i tuoi visi al posto di tutti i cantanti. Sì, sì. È stato forse un ammiratore. Ma sicuramente. È fatto uno scherzo, ma che è molto gradito. È una cosa bellissima, perché comunque tu stai rappresentando veramente un grande insegnamento. E la Paola scriveva questo. Scriveva, sei melodia, forza nella voce, intonazione pregevole, famiglia, semplicità, passione, esercizi e serietà per scaldare la voce, niente head monitor, perché appunto usi giustamente le spie, come è giusto che si faccia, e infatti hai fregato tutti sull'intonazione, perché comunque tu sei stata precisa e perfetta quando gli altri hanno avuto tutti i problemi con i fonici. È vero. Io quando sono andata a fare le proprie a Roma, allora il tecnico mi ha chiesto, signora voglio le auricolari? No, guardi, io sono l'antica, voglio le spie, perché voglio sentire la mia voce e tutto quello che succede nell'orchestra, ma nelle spie. E poi voglio le auricolari, perché a me mi deve dire, un mio collega, che quando sta cantando una canzone d'amore, una canzone che deve dire delle cose, che devono arrivare, si mette con la mano così, che sembra che gli stiano cadendo i pantaloni, no? È vero. Per regolare.